che in realtà dubbi e certezze passano attraverso la nostra convinzione di essere persone razionali e che il nostro cervello razionale sia dominante in realtà da qualche anno Kahneman piuttosto che altri studiosi hanno scoperto che noi siamo portatori di due cervelli, un sistema uno che è una parte più primitiva mentre invece la corteccia sarebbe quella più razionale vi dico questa cosa